Abbiamo adottato un sistema innovativo di gestione dei nostri immobili, mettendoli a reddito e condividendo con gli affittuari l'investimento per la loro ristrutturazione. Spiega così Giovanni Damiani, presidente della Fondazione Ananian, l'iniziativa che vede l'avvio di una partnership con Teorema, azienda italiana di Information Technology, partner di Microsoft, che da 1998 ha sede all'area Science Park di Patriciano e che prevede un intervento di riqualificazione edilizia e l'apertura di un nuovo centro tecnologico in due immobili localizzati rispettivamente ai civici 1 e 2 di Piazza della Borsa. Con questa iniziativa vogliamo spostarci anche a Trieste. Abbiamo identificato due palazzi che in questo momento sono nel salotto buono di Trieste ma sono sfitti da 15 anni, quindi molto degradati. Vogliamo fare una riqualificazione che sia in qualche maniera più certosina possibile per mantenerli in qualche maniera consoni a quelli che sono i palazzi che stanno attorno. L'intervento, che avrà la durata di 24 mesi, porterà alla realizzazione del TILT, acronimo che indica il Teorema Innovation Lab Trieste, all'interno del quale troveranno spazio gli uffici delle aziende e delle start-up inserite nel suo acceleratore d'impresa, un centro conferenze contraddistinto da tecnologie avanzate e un ufficio di rappresentanza di Area Science Park. E come sottolinea Michele Balbi, vi sarà l'opportunità di nuovi posti di lavoro. Noi assumiamo circa una quindicina di persone ogni anno, cercheremo del personale nuovo per questa nuova struttura. Gli uffici saranno aperti al pubblico, quindi avranno anche la possibilità, sia in anza, di andare a usufruire della tecnologia e conoscere la tecnologia. E poiché conosce bene l'atteggiamento un po' prevenuto dei triestini quando vengono annunciati interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio storico della città, il presidente di Teorema ci tiene a sottolineare l'attenzione che verrà adottata. Assieme al nostro pool di architetti abbiamo cercato di innestare all'interno della classicità, della storicità, l'innovazione, quindi mantenendo tutto quel che è il vecchio o vintage, come si chiama oggi, creando alta tecnologia, innestandola all'interno di questi edifici.